Stai cercando lavoro? Sei un lavoratore del settore trasporti e hai un problema sul lavoro? Ti serve aiuto per risolvere una controversia? Vorresti che il tuo contratto di lavoro fosse rispettato, rinnovato e magari fosse anche più vantaggioso? Fai fatica a conciliare la tua vita lavorativa con quella familiare? Iscriviti alla FITCISLA! La Federazione Italiana Trasporti, FIT, nasce per rappresentare e difendere i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori del settore trasporti, dell'ambiente e dei servizi e fornirgli assistenza. Aderiamo alla CISL che dal 1950 si occupa di difendere il lavoro e i lavoratori, le condizioni salariali e professionali, tenendo alti i principi di libertà, giustizia, partecipazione, responsabilità, autonomia. Il nostro obiettivo è quello di garantire pari dignità a tutti i lavori, migliorare le condizioni economiche e normative e combattere la discriminazione in tutte le sue forme. Iscrivendoti alla FITCISLA, avrai sempre al tuo fianco dei colleghi che si adopereranno per farti svolgere in maniera sicura e serena il tuo lavoro. Devi fare la dichiarazione dei redditi? Hai bisogno di assistenza perché hai subito un infortunio? O vuoi sapere quando andrai in pensione? Se ti iscrivi alla FITCISLA, puoi accedere in maniera privilegiata a tutti i servizi dal CAF CISLA e dall'INAS CISLA. Vuoi sapere come iscriverti alla FITCISLA? Cerca il responsabile FITCISLA nella tua azienda. I nostri delegati sono tuoi colleghi, formati, leali e professionali. Chi meglio di loro può capire la tua situazione? Ti aspettiamo in FITCISLA. Visita il sito www.fitcisla.org Seguici su Twitter e su Facebook.